Afforgiare a mano il ferro si continua soprattutto in alcune botteghe di guardie grele che vantano secoli di attività. Vi sono ancora artigiani che lavorano il ferro secondo le tecniche tradizionali, per lo più guardando agli stili e alle forme del passato, alcuni dedicandosi anche alla realizzazione di complementi di arredo. Degni di nota, come in passato, per la bellezza di forme e per l'accuratezza di lavorazione, sono gli oggetti in rame martellato a mano, che hanno i loro centri di produzione in quelli stessi famosi da secoli, Guardia Grele e L'Aquila. I ramai, ancora attivi nel centro alle falde della Maiella, oltre a riproporre le forme del passato, ormai solo con funzione decorativa, creano talvolta anche oggetti di moderno design. Notevoli sono i lavori a sbalzo, soprattutto piatti e pannelli dai tipici soggetti abruzzesi.